Dal 2009, il 12 novembre, giorno dell'aziendato di Nassiria, era giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Era il 12 novembre del 2003 quando alle ore 10.40, ora locale, le 8.40 in Italia, un'autocisterna forzò l'entrata principale della base maestrale, presidiata dai carabinieri italiani nella città di Nassiria in Iraq. I due uomini a bordo fecero esplodere una bomba e la deflagrazione, con un effetto domino, fece saltare in area il deposito munizioni. Il bilancio fu tragico. Morirono 12 carabinieri, 5 soldati dell'esercito e 2 civili, oltre 9 iracheni. I feriti furono 20, 15 carabinieri, 4 militari e un civile. Anche a Caltanissetta, su iniziativa del gruppo consigliare della Lega, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri di Caltanissetta, sabato mattina alle 8.40 al Monumento ai Caduti ha ricordato l'evento con una deposizione di due corone d'alloro. Una messa nel pomeriggio a San Giuseppe e una deposizione di una corona di alloro anche alla sede Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Ogulini. È un giorno importante perché per la prima volta nel giorno del 19esio anniversario della strage di Nassiria siamo qui a commemorare le vittime in piazza, appunto, vittime di Nassiria, inaugurata quest'anno, all'inizio del 2022, dopo una mozione da me presentata, ma votata da tutto il Consiglio Comunale che ancora ringrazio. Grazie a loro abbiamo potuto oggi qui commemorare le vittime e ogni anno questo spazio sarà dedicato proprio alla commemorazione non solo delle vittime in Nassiria, ma siamo alle spalle del Monumento Caduti e tutti caduti per servire la patria, per portare democrazia e pace in giro per il mondo. Siamo molto contenti che il Comune abbia voluto ricordare questa giornata così tragica per il nostro paese, ma è così importante anche da ricordare nella memoria perennemente al ricordo di questo sacrificio che l'Italia ha pagato per portare la pace nei territori martoriati dalla guerra.